Ebbene sì, sono tornato più mortale di pre... E quella che cavolo è? Non lo so, andiamo a parlarci. Eh sì, tu saresti? Rieccoci. Ah, non ve l'ho fatto vedere, giusto, giusto, giusto. Molto parlare di me, dicono che tu corre sempre una carretta. Anch'io ho il compito da svolgere, ma poi teneremo se... Per condividere, se avessi bisogno, eh sì. Posso le lu... io... io... io lo do il sole. Dov'è? Cazzo, non ho il simbolo. Sì, se ti serve aiuto. Ciao, vabbè, ciao eh. Eh, ah sì, comunque. Eh, piccolo appuntino. Vi ricordate il... il... come si chiama? E al vecchio lupo di Farron, che c'era un muro segreto, che vi ho potuto vedere. Eh, portate quelle ceneri qui. Che sta qua vi dirà due robe così. Andate via, tornate, troverete lei. Che vi dirà qualcosa. Questo. Mentre sto tizio qui, dopo che abbiamo ucciso i guardiani, ci dirà... C'è un superante di cerimonia. Sì, l'ho fatto tipo 5 bisogni fa. E... E... Ottimismo portami via, eh. Esatto, l'ho distrutta. Ne sono stati... piuttosto forti? Ah. Redi, redi. E' questo che porta... Ma mi ricorda un'ungarezza più... ancora più depresso. Ringraziarmi perché? Ah, per quello. Anello di Farron. Sì, sì, ok, va bene, va bene, va bene. Qua invece, se non sbaglio, c'è un tizio ancora più pessimista. Che... Fiamma soppissi. Sì, uno l'ho già trovato, eh. Ah, il globo dell'occhio rosso increnato per invadere la gente e farla fuori. Portare a termine i miei compiti. Ma la poesia che vuoi depredare i bracci... Va bene. Ah, questo qua dopo vi spiego. Dopo vi spiego. E tu? Tu cos'hai da dirmi? Da darmi, soprattutto. Ah. Spadone di Farron, spadone pesante. Sì, quello lì. Eh, questo qua è piuttosto figo. Però, o lo prendiamo questo qua ora, oppure aspettiamoci e prendiamo lo spadone di Artorias. Io vorrei lo spadone di Artorias, perché è più bello. Basta. Guardiamo un attimo il... L'anello. Riduce il consumo di PA. Ah, va bene. Interessante. Un secondo, un secondo, un secondo. Devo andare da... Cosa? Come si chiama? Oh, se non sbaglio, eh. Eccolo qua. Eh, eh, sono diritto... Sì, ho Orbeck. Quello là... Che tempo fa... Non mi ricordo neanche io che cavolo di video. Sì, sì, sì. Dai pergamena. Pergamena del saggio. Eh, a quanto pare è l'era pergamena della legione. Quanto vedo. E poi, quella là d'oro. Oh, la seal. Ah, mi sembra che sia quella là di quelli di Xanthus. Appunto. I saggi di Xanthus. Ma dato che io sono... Non so nulla dei miracoli. Non me ne può fregare di meno. No, c'è del stegonere. Ah, è vero. C'eravamo... Non l'ho ancora fatto con voi, vero? Va, rimedio subito, eh. Beh, i vecchi tempi, eh. Esattamente. Perché con voi non l'ho fatto, ma l'ho fatto in tutti gli altri cosi. E qui, se non sbaglio, ci sono... I grandi topi. Eh, però, siamo forti, eh. Eh, sì che lo siamo. Un colpo shottato. E la chiave... La chiave della torre... No, aspetta. È che comprate dalla vecchia una volta che gli date le ceneri del... Del becchino. Quello lì. Qua c'è. Per il... Ok. Qua... Che di assoluzione... No, no. Eh, per il finale che voglio fare, non mi servirà. Per fortuna. E qua? Alla barda rossa. Nella barda non mi sono mai piaciuta. Come potete... Come avete potuto intuire. E qui? E si rianima. Vabbè. Siamo forti, veramente. Siamo forti. Decisamente. Uno, due... Neanche in tempo a rialzarsi che già l'ho fatto cadere. Cavolo, ho finito la stamina. Però non sono morto. Questo... Ma che cazzo dove esce sto qua? Dai muri. No, ho preso paura, veramente. Da dove? Resina umana. Che è quella per l'oscurità. Se non... Se non sbaglio. Come faccio sempre. E questo qui che ci fa? Ma da quanto tempo è chiuso qui? Ci sono dimenticati di lui? Eccolo lì. Dai, vieni qua. Vediamo un po' se riesco a backstabbarlo. No. O almeno non in quelle condizioni. Di qua... Di qua, di qua, di qua, di qua. Sembra... Oh... Ah, il punto. Tu non mi scappi. Fermo. 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 Spreco più stamina a correre lì dietro che a colpirla. Gemma pesante. Beh, non è pessimo. Ah, ciao, eh. Ciao. Wow, potente. Uuuuh, questa... Mi sta a petiare una macetata in faccia. Con una macetata grande, sì e no... Come me. Ma poi, poi, non sono riuscito a fotterlo, prima che me lo facesse lui. Qui c'è un altro B, qui c'è un altro tunnel. E la sua, c'è qualcosa là. Scommetto che la prima volta non l'avevate mai visto. Nien' anch'io. Aha. Ora. Ah, sbagliato, sbagliato, sbagliato. Eeeh, così. Ora lo tolgo, se no vado in Fetterol. Che in questo gioco non è proprio... Scudo rosso e bianco benedetto più uno. E dopo? Scudo rosso e bianco benedetto più uno di legno... No, eh, che cavolo. Pfff. Ai. Ma da dove riesco? Ah, sì, dalle fo. Ah, sì, c'è il buco. Pensavo, ma cosa passano attraverso le... Attraverso le sbarri? Talismano del santo. Quale santo? Ce ne sono molti. Eeeh, quanto è lunga sta scala? Ma veramente, ma fai una scala, fai una corsa in... Alla scala Skyrim, passa su... Vai in verticale. E' proprio totale verticale col cavallo. Amico più avanti. Ah, non mi ero neanche accorto che ero qua. C'è... Ho un'armatura che pensa che fa clink, 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 clink. Come hai fatto a non sentirmi? Scurito. A me non sembra. Eh? Va bene. E non ho capito. Forse era una metà prova, qualcosa di simile, ma non ho capito. Io non ci sto toccando. Sto tipo fluttuando. Usa la forza. E' il Dio del Sole, prega. Prego che ora... E ora cosa faccio? Karim, c'è stato un altro stronzo che veniva da Karim e si chiamava Lautrec. Devo farti fare la sua stessa fine? Ah, guardiano del fuoco. Sei forse un... Come hai fatto a indovinarlo? Forse dalla targhetta che ho qua? Va bene, accetto i suoi servizi, sempre meglio di niente. E... Ah. Pensavo di dover tornare indietro dalle fogne e di tutto il resto. Tu cos'hai da dirmi? Sì. Perché non l'hai fatta tu? Ma che c'è? Vabbè, non potevi più. Scusa, l'hai chiusa dentro? Va bene. Certo che qui c'è... C'è un ottimismo che... E' andato un po' troppo per le lunghe, comunque, questo episodio. Ci siamo soffermati troppo su... Su... Quella side quest e tutto il resto. Infatti, catacombe di Karthus. E... Qua vedo... Ossa, 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 teschio, ossa. E... Scommetto che non ci posso arrivare con un salto lì in fondo. Ci scommetto. Da vita. Oppure vogliamo provare? E come... Ah, ciao, papà Eros. Papà Eros, calmo. Riesco, aspetta. No! Per poco. Sì, sono fissato che peri voglio impararli. Punto e basta. Belletto di... Belletto di car... Che nome strano. Ci voglio provare. Ci voglio provare. Fa ancora. Ma perché non funziona? Perché devo fare così schifo? Perché devo fare così schifo nei peri? Lo fa apposta. Vabbè. Io ho perso tempo. Voi no. Non fatelo a casa. Non fatelo a casa. Io conosco il posto. Voi no. Quindi... Vediamo questo qua. Cosa? Ma diventa invisibile. Bravo. Bravo. Veramente. Si è rialzato dal nulla. Dopo è... Dopo ha deciso. Ah, è vero, sono morto. Eh, se ne è accorto. Bello salto. Questo qua è la spada più grande però con braccio solo. Ah, l'ho ucciso. Con quale magia? Non so, era dietro di me. E questo? Questo qua è senza te. Come fa? Ma come fa a vedermi questo qua? Dove gliel'ho messo? Ah. Non è morto. Eppure questa spada ha un critico abbastanza alto. C'è cento... Fanculo. C'è cento dieci per un... Cento dieci di critico per una spada andrita. È tanto, eh. Wow. Complimenti per la mira. Ma ce n'è. Eccolo. E qua. Ah, non si sa ancora... Eh, però era determinato, eh. Vediamo un po' se... Ma perché devono essere così grandi gli scheletri rispetto a me? Da dove vengono questi scheletri? Da la Germania? Sono tutti alti due metri... No, neanche. No, la Germania. Da dove? Dall'Africa, forse. Sono tutti alti di cinque metri. Lo vedete questo? Non permetterlo. Piccolo, appunto, per... Sopravvivenza in Arsus. Non permette i pulsanti che ci sono per terra. Mai. E qua? Anima di un cavaliere senza nome. E... Qua c'è un tunnel. Tunnel vuoto. E' permesso? Ah. Comodo. Via segreta più avanti. Oh mio Dio, avevo ragione. Che strano. Di solito ti fotono tutti. Tu comp... Ah. Quelli con... Ma l'avevi preso? Quelli con gli occhi bianchi comunque... Hanno due vite. Non so, l'ho scoperto. Crepaci sotto. Crepaci ancora. Ah, gli affondi fan poco contro gli scheletri. Ah, è un fantasma. Cazzo. Era un fantasma. Tromopi romanzia di Kartus. Abbastanza... Abbastanza utile come... Ma tu come racere perché ti sei messo qui? Tipo i camper. Tu li aspetti... Ancora vivo. Tipo i camper, tu... Si mettono lì, ma tu li vai dietro con il coltellino e... Morto. Mi sono perso. Ah, già, di qua, di qua, di qua. Che questa qua era una via segreta, non dovevamo neanche esserci qua. Quello lì mi aspetta... Mi aspetta già con le parole calate. Piano piano. Piano... Piano non mi ha visto. Forse se andavo piano, non mi vede. Non mi ve... Oh, sul serio, eh? Non mi vede. Non mi ve... De... Quanto poco danno li fa... Si, ok. Un colpo di spazzata li toglie, quasi come un affondo carica. Sul serio? No, non devo farmi... Non devi farmi il sanguinamento. Non devi farmi sanguin... Non deve farmi sanguinamento. Cucri. Beh, cucri... Cosi di... Come si chiamano? Eh... E' un altro. Ahia, sto qua mi sembra un po' più arrabbiato. Si, decisamente di più. E... Se va... Stessa storia. Se vado piano, forse non mi vede. Non mi... Non mi... No, porca... Ci avevo spera... Ah, l'ho preso. Ci avevo sperato, eh. Ci avevo sperato. Però... Ha funzionato finché non... Finché non l'ho... Sfiorato. Quindi... Cosa? Ma... Ah, è un altro. Belli gli spadoni, comunque, eh. Lo vorrei anche io. Il problema è che non so farli. Due mani. Cosa fai a due mani? Schifo. Eh... Spad... Ho... Richiesto... Richiesto e avuto. Subito. E altri due che risuscitano. Oh, ma non si stancano mai di muovere. Già una volta sono morti. Spero siano... Tipo... Definitivi. Che non risuscitino... Così di punto in bianco. Di qua c'è qualcosa? Oppure... Eh... Eh no, non c'è qualcosa. No. Ci sono solo tipo... Quattro scheletri. Wow. Comunque... Basta dire comunque. Comun... Uccidetemi. E tu... Chi sei? Non capisco chi tu sia. Ah. Sa... Capito nel momento... Ah, è Henry. Compagnolo... Eh... Era uno scheletro? Se non era uno scheletro, no. Intrappola... Ah, sei caduto in trappola. Non lui. Non lo vede... No, non lo vede. Capisci. Capisci. Bene. Uno li capisce. Se la caverà senza dubbio, il problema è trovarlo ora. Mi stava cercando. Determinazione. Undertale confirmed. Se dovessi incontrare... Dili questo. Ah, nelle catacombe. Io rimango nelle catacombe. Come dire? Io sono a Roma. Cercami. Ci sono un milione di persone. Eh, non ho letto cosa? Che le fiamme ti indicano la via. Eccole le fiamme. I lampadari. No, fermo qua. Fermo qua. Ti ho visto, te camperone. Mi dispiace. Ma non sono quello a cui ci fotte così facilmente. Ok, quella mi è passata davvero vicino all'occhio. E ho fatto... Tu resti ancora qui. Al sicuro da discredire dei camperoni. Guarda, gli scherzi di quella che stavano per venire a prenderti li ho fatti fuori io. Contenta? Contenta. Ho dimenticato... Torna su. Torna... Brutto impedito. Ah no, non ho... Oh sì. Sì, sì, sì. Ho dimenticato qualcosa. Decisamente. Tipo... Girare l'angolo. Eccolo. Eccolo. Senza te... Come? Ma... Fate gli scherzi. Ma se sono senza testa? Vuol dire che sono anche senza occhi. Come fanno a vedermi? Con... Non lo so. La forza di Cristo. Boh. In cosa credono questi qua? In Carthus? Anche se... No. Non lo farò. Però... Neanche questo. Però questo sì. Ah, poco danno relativamente. E se non sbaglio sono andato qua. Di qua sono... No. Da di là sono arrivato e devo andare di qua. Penso, eh. Penso. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-ra... Mi... All'Andiana Jones. Ah, è caduto! Ma... Porca... Wow. Pa-pa-ra-pa-pa-pa... Quanto... Quanto... Avevo... Il 30... Il 90% del corpo era fuori. Non è che mi sta amputando. Era fuori. Io avevo... La testa... Avevo la testa che era... Ancora... Sul pavimento. Aspetta che torni. Wow. Avete visto che si compenetrava un po' col muro? E qui... Io me ne vado qua con tutta cacca... Cosa c'è scritto? Se solo avessi falò. E si è messo lì a disperarsi. Questi vasi... Ma... E fare altre tombe era troppo costoso. Quindi li hanno messi tutti nei vasi. Tu. Ah, no. Parlavo con lui. Cos'è sta roba? Questa roba. Ah, penso di aver capito. Massa o scu... O qualcosa di simile. Tu sei morto? No. Non sei morto. Avanti, ammetti. Tipo quelli là che si pingevano morti in trincea... Per poi prendergli alle spalle. Ua. Che cavolo. Cos'è questa roba? Ma cos'è sta... Ah, quello lì che mi dispara dalla lontana. Io pensavo... Ma cos'è si spawnano così? E lol, backstab, pippa. Non lo fare. E lo fa. Io non perdono la gente come te. È morto? Sì. Ora ci facciamo una bella bevuta. Ah. Wow. No, cavolo. 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 Eh, sì. Io qua peggioro la situazione. Ah, nel lato di Carthus. Cosa fa? Sì, è un'immensa dei vasi, però. Che bel mimetismo. Sento un... Ah, è quella di prima. Ma... Infatti... No, io ho preso paura. Ha detto... Che cavolo è sto casino? Eh... Anello del sacrificio. Anello... Bene. Aumenta la destrezza, quindi ci facciamo. Peccato ve lo siete... Vabbè. Non c'era tanto da perdersi. Comunque... Sono finiti in mezzo a un casino. Di nuovo. Ah, no. Ah, è qua il pulsante. Ah, no. Non è qua il pulsante. Dov'era? Dov'era? Ah, è qua. Eh, sì. Eccolo. Ah! Non me l'aspettavo. È il ritorno di fiamma. Qualcosa di simile. Comunque sì, c'era... Penso, eh. C'era l'anello latteo di Carthus. Che mi sa che ve l'ho già fatto vedere. Sì, sì, sì. L'anello latteo di Carthus. Che rende invisibili le rotolate. O almeno per un frame. No. No, sto qua gli occhi bianchi. A due vite. Te. Ma cosa? Dark Souls 3. Hai perso la mia stima. Scusa, ma... Durante le rotolate e cinque... Beh, abbiamo ancora metà Estus. Dai, dai. Colpisci mi. Puh. Mi hai mancato. Lol. E gli fai una combo con la spada dritta. E stai sicuro che resteranno giù. Bella la spada. Resuscita, dai. Bra. E io... Cento... Oh, oh. Wow, volevi. No, no, il Perry. Vabbè, sì. Volevo farlo, lo ammetto. Ma non ci sono riuscito. Resta giù. Belletto di Cartus. Che se non sbaglio rende... Da sanguinamento alle armi. Maledetto. Qui c'è un... I ponte... E questo qua è il ponte sullo stretto di Messina. Non c'è. Oppure è da Salerno-Reggio Calabria. Trappola più avanti. Ah, giusto. Questo qui sta fissando... Grande anima divinante gno... Eh, no, però. C'è. E... Gancheroni... Vi ho visti. Take my palla di fuoco. Ho sbagliato. Take my palla di fuoco. No, ma in due... Ma che me... Ma alla forza di mia nonna... La spara... Puff! Ma qualcun... E... No, voi siete veramente dei can... Ti è. No è. No, ti pre. Due no... Io ti giuro che scappo. Guardalo quello là dietro che si mette a fissare tipo... Io ti aspetterò quando ti giri. E non ti ficherò lì qualcosa che non ti piacerà. Tipo lo spadone. Ah, questo qua invece ha una spada... Una spada ricurva. E uno scudo... Uno scudo... Neanche brutto. Frammenti di titan... A me siamo nei grandi frammenti di titanite... Perché voglio potenziare sta spada... Ma veramente potenziarla... Perché... È forte. Non! Salire sulla trappola. Non mi possono fare i critici questi qui. Io non sto capendo niente. Beh... L'unica roba che ho capito è stato il backstab. Due... Tre... Affondo potente... Nooo... Mi ha trollato. Colpo di scudo. Bravo! Beh, adesso non sei più bravo. Sta giù. Compenetra... Lontani dal centro. E anche da qua. Facciamo un giretto. Bracce. Cosa c'è qua sotto? Boh. Fugne. Già, già le catecombe sono... Ma che... È stato istintivo! Io non me lo usare aspetto... Frammento... Oh... Frammento grande di titanite. Comunque io non mi fido di fare una corsa. Finché... Finché non torna qui... Io non ci torno. Che personaggio. Veramente. Wow. Zombie. Adesso torna qua. Dai, veloce. Veloce che devo finire l'episodio. Eh. È lui che mi fa... È lui che mi fa finire tardi. Aha. Abominio più avanti perché... O dall'altra parte? Non lo so. Vabbè, comunque... Io mi fermo a questo falò... Se non mi forno ne biciate troppo lungo. E vi aspetto... Vi aspetto già per il prossimo episodio. E... Comunque è bello questo scudo. Eh, da cosa protegge? Fammi vedere un po'. Protegge molto bene dal fuoco. Perché? Perché mi sono soffermato sullo scudo? Non lo so. Così mi si vede che non ne andrà a fare. Comunque... Stavo dicendo... Ehm... Nel prossimo episodio... Credo che finiremo le catacombe di Carthus. Oppure no. Voglio vedere quanto è ancora lungo. Comunque... E basta con sta palla che va avanti e indietro. Dai. Torna di là. Bravo. Ora posso finire. Dicevo. Spero che il video vi sia piaciuto. E... Continuate a seguirci. E ciao a tutti. Si passa. Passa. E ciao a tutti.